Le donne hanno una finestra. Tu uomo, essere come Tarzan. Se ti piace una donna, a te non interessa che ai tuoi amici non piaccia, che sia poco sicura di sé, che l'unico neurone che ha sia morto di solitudine. A te piace e basta. Per alcuni uomini il semplice fatto che la pulzella abbia ancora il battito è più che sufficiente il battito animale. L'uomo è una specie di Willy Wonka dell'amore. Lui dà incondizionatamente. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Questo ha una ragione etologica di conservazione della specie. Per l'uomo è importante la quantità, non la qualità. E poi, come diceva sempre un mio amico, nella quantità ritroviamo la qualità. Uomo saggio. Le donne invece sono diverse. Senti che bella questa frase. Le donne sono diverse. Paura, eh? Sì, perché le donne hanno la finestra. E mo che è sta finestra? La finestra è il momento esatto in cui la donna dice sì. Perché un istante prima o un istante dopo non è sì ma è no. La finestra per darti il numero di telefono. La finestra per dirti di sì ad uscire. La finestra per il primo bacio. Sapete come la chiamano le donne la finestra? La magia del momento. È come un gate spazio-temporale all'interno del quale ti devi tuffare a capofitto in quell'istante che è aperto. Perché una volta che si chiude potrebbe non riaprirsi mai più. Per farti capire quando la finestra è aperta, la donna lancia dei segnali. I segnali sono dei messaggi che la donna invia per farti capire che è arrivato il momento giusto. E quindi non può esistere una relazione con una donna che prescinda dalla conoscenza di questi segnali.